Io sono il Buon Pastore e conosco le mie pecole e le pecole conoscono me. La conoscenza di cui parla Gesù è la stessa che egli ha del Padre e il Padre di Lui. È una conoscenza profonda, è una conoscenza fatta di amore. È una conoscenza che nel Vangelo, nel Lessico di San Giovanni sappiamo che è coincidente. Conoscere e amare. Non ha conosciuto il Signore vuol dire non che lo ha ignorato ma non lo ha amato. Conoscere veramente Dio vuol dire anche volegli bene. Noi siamo conosciuti da Dio e dunque siamo amati da Dio. E quello che caratterizza il Pastore è la conoscenza puntuale, personale di ciascuno di noi. Non è una massa, non siamo un numero di persone. Noi non apparteniamo alla fede cristiana, cattolica, perché siamo iscritti a un gruppo grande di cui abbiamo una tessera. Noi entriamo a far parte di questo popolo di Dio ma con una identità ben conosciuta e amata da Dio. Il che vuol dire che anche noi davanti a Dio siamo noi e Lui ma insieme agli altri. Ma di ognuno di noi c'è un nome e il nome nostro è un nome segreto ancora che Lui ci rivelerà quando saremo di là perché questo indica ciò che siamo nel profondo veramente. Noi abbiamo nomi di battesimo, abbiamo soprannomi, abbiamo soprattutto delle identificazioni che gli altri fanno della nostra persona che a volte è buona, a volte cattiva, a volte indifferente. Questa non è la conoscenza che ha di noi Gesù, il Buon Pastore, ma conosce profondamente la nostra anima, i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre debolezze, ma anche quello che è il vero anelito, il vero desiderio di conoscere il Padre, che si conosce in pienezza per mezzo del Figlio, solo quando avremo passato tutti quanti gli strati che ci sono, che ci interrompono le comunicazioni, le comprensioni in questa terra. Quando saremo di là allora lo vedremo faccia a faccia e lì vedremo quanto è stato profondo, totale, capillare a ogni momento della nostra vita il suo amore per noi. Adesso ci sembra a volte di essere da soli, abbandonati, capiti da pochi o capiti da nessuno e a volte ci induriamo in questa specie di solitudine pur vivendo in mezzo agli altri, solitudine che aumenta quando passando alle generazioni ci rendiamo conto che agli altri interessiamo poco, perché non facciamo più parte del giro, il giro vivace delle cose della vita sulla terra. E invece per Dio la nostra vita è molto di più che un amarci ancora così, è un amarci sempre di più e non toglie mai il suo occhio provvido su di noi. E questo vuol dire rapporto personale e di fiducia. Se noi avessimo veramente la coscienza dell'amore di Dio forse impazziremmo perché è troppo, è eccessivo per la nostra povera persona. E allora questo velo anche che ci è concesso è un velo di misericordia perché vedremo quanto poco corrispondiamo a lui, quanti difetti abbiamo, quante volte ci distraiamo, a volte riprendiamo il filo con lui dopo aver un po' sostato in altre zone dove lui non c'era, ma lui non ci ha mai abbandonato. Allora vedendo tutta questa sua costanza e la nostra incostanza forse staremo molto male, ma egli fa in modo di amarci in modo tale da portarci a misura, piano piano, a questa conoscenza che è sempre maggiore e sempre più avviluppante. Guardate bene, solamente il peccato ci tiene lontani da Dio, cioè non ci fa guardare al sole di Dio, ma Dio ci ama sempre comunque come siamo, ci vorrebbe purificati dal peccato sempre più vicini a lui e sempre più immedesimati in lui fino a diventare una cosa sola. Questa è la sua finalità, essere un tutt'uno come il padre è nel figlio e il figlio e nel padre. Ritorno dunque alla frase di Gesù, dice il pastore ama le sue pecole, le conosce una a una, le chiama per nome e le ama come il padre ama il figlio e il figlio ama il padre. Dunque c'è già un amore in atto, il dato imperfetto siamo noi e c'è un tempo di attesa, un cammino che noi stiamo percorrendo. Del resto sappiamo che ogni passo che facciamo ci sentiamo più leggeri della nostra umanità che pesa nella carne, i dolori, tutte queste cose che tutti sperimentiamo, ma in realtà tante cose che erano le distrazioni, le passioni della vita, tutto questo tende ad avere un valore minore e grazie a Dio il nostro cuore riposa più nella pace di Dio. Quando riusciamo a stare con Lui o quando verso sera siamo noi e Lui e basta, il nostro cuore riposa come se la nostra guancia fosse appoggiata alla sua mano. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.